Ciao a tutti, buongiorno da Giuseppe Palermo. Vi diamo il benvenuto al nostro stand di Almag, qui al padiglione 19, stand A22 Almexpe di Bari. In questa edizione ci teniamo tantissimo ad abbracciare tutte quelle aziende qui del sud, farci conoscere ancora di più. Quest'anno abbiamo introdotto due nuovi sistemi che sono dei sollevatori elettrici e dei trainatori elettrici. Ce ne sono di diversa tipologia, abbiamo sempre i nostri sistemi lean manufacturing adatti ad ogni tipo di applicazione ed esigenza ed oltre possiamo notare i sistemi della Bloxma che sono sempre dei sollevatori elettrici che possono essere posizionati a bordo linea. Vi aspettiamo tutti a questo evento che si terrà fino al 30 di novembre qui al Mexpe di Bari. Vi invitiamo anche alla prossima edizione del Mexpe di Parma 2020. Speriamo di vedervi presto. Grazie.